Gentili telespettatori, di Cilento Channel, ben ritrovati, pensate settima puntata di questa straordinaria avventura che è le consultazioni di Cilento Channel. Grazie a tutti voi che ci iscrivete, ci seguite e desiderate molto, c'è un'attesa incredibile di vedere il prossimo candidato. Questa volta abbiamo con noi Mario Pesca, consigliere di minoranza del Comune di Agropoli. Mario, bentrovato! Ciao Gianni, grazie, grazie dell'invito Gianni. Grazie a tutti, grazie a tutti. E allora, hai già partecipato a qualche tavolo di concertazione? Raccontaci un po', chi hai incontrato, qual è il quadro politico, quale sono le intenzioni? Insomma, un sacco di domande ti farò durante il corso di questo incontro. Gianni, io ho partecipato alle riunioni naturalmente come si fa, però ho trovato una cosa che è stranissima. Tutte persone per bene, per l'amor di Dio, io non voglio mai andare sul personale. Però tutti che mirano ad essere candidato a sindaco più che essere candidato a consigliere. Io ho detto sempre una cosa molto semplice. Noi se vogliamo fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che debba cambiare quello che è il corso dell'amministrazione, bisogna tutti quanti metterci da parte e fare le candidato a consigliere. Dopodiché si decide se faremo una candidatura a sindaco. Invece io trovo tutti prima candidata a sindaco e poi a consigliere. Questa è una cosa sbagliatissima. Perché se noi vogliamo bene a questa città, vogliamo sviluppare un sviluppo di questa città, vogliamo che questa città cresca, dobbiamo mettere noi stessi con umiltà a disposizione della città, non partire già come coloro che debbano amministrare la città in modo come i primi, cioè come sindaco. Allora vi dico questo qua, vi sto dicendo sempre a tutti qua. Noi tutti diamo la disponibilità di essere candidati a consigliere. Dopodiché da questa disponibilità scegliamo chi possa essere il migliore o quello che appare il migliore e decidiamo poi di affiancarlo come sindaco. Se partiamo con questi presupposti noi possiamo andare avanti, altrimenti praticamente non c'è nulla da fare. Non è possibile ad Acropoli che si possano oggi contare circa 5-6 candidati già a sindaco e non ci sono nemmeno 5-6 candidati a consigliere. Questo è paradossale, è vero. Mario, senti, però devo dire la verità, ieri ho incontrato il sindaco Adamo Coppola in questo programma e dà per scontato che tu appoggerai la sua coalizione. Allora Gianni, il discorso è uno solo, non c'è nulla di scontato nella vita, nella politica. Quello che è certo è una cosa sola, è che naturalmente noi non dobbiamo fare in modo, io non l'ho mai fatto proprio nella vita, di individuare tutti coloro che stanno nell'amministrazione comunale come qualcosa di negativo. Ci sono tante persone e tante iniziative che sono state positive nel tempo, per cui è chiaro che se si fa una squadra nuova, una squadra diversa, una squadra da poter competere e sviluppare la città, c'è la mia disponibilità. Ma non è un discorso che io sono già candidato di Adamo Coppola, questo non è assolutamente vero e Adamo Coppola ci ho parlato tantissime volte, lo sa. Noi se facciamo qualcosa di nuovo, di diverso, allora io do la mia disponibilità, ma solo a queste condizioni. È chiaro che dare la disponibilità ed entrare in un'amministrazione a cui io ho fatto l'opposizione per tanto tempo e per questi due anni, non è necessario. Però io a Adamo Coppola che cosa gli ho contestato sempre, caro Gianni? Perché bisogna essere chiari. Non è possibile, e non credo che sia possibile, che un sindaco non possa dare le deleghe a quello che è fondamentale per tutta la città. Non abbiamo una delega al turismo, e che è naturale che lo sviluppo del turismo per questa città è fondamentale, no? Noi vogliamo di turismo. Non abbiamo una delega al commercio, e noi abbiamo tante attività commerciali che hanno bisogno di avere un interlocutore con cui poter dialogare. Non abbiamo un assessorato ai lavori pubblici, ed è necessario ed è fondamentale che per i lavori pubblici sia un delegato. Quindi praticamente quello che bisogna fare è avere un sindaco che dia più deleghe ai consiglieri. Naturalmente, laddove gli assessori non portano a termine quello che è il loro mandato, è giusto pure che il sindaco li revochi. Il problema è questo. Il problema è dare e delegare il più possibile a persone capaci e competenti. Chiarissimo. Ora, io dico, in due anni che ho seguito questa amministrazione comunale sono stata all'opposizione. Quello che ho notato è che non è che tutti quanti sono sullo stesso piano. Ci sono tante persone, tanti consiglieri comunali, tanti assessori, tante persone che fanno parte dell'amministrazione, che sono persone perbene che hanno lavorato per questa città. Ma non bisogna mai, mai, e bisogna fare un discorso di persone che lavorano veramente. Non bisogna fare un generalizzare il tutto, oppure, oppure, tenere lo status quo costantemente. Chiarissimo. Senti Mario, parliamo un attimo del tuo gruppo, insomma parlo del Movimento 5 Stelle. Ti presenterai con loro, ci sarà una lista 5 Stelle, come state, visto che, insomma, qualcuno dice che ormai si è sgretolato. Raccontaci un po'. Gianni, la questione è questa. Il Movimento 5 Stelle, come tu sai, cinque anni fa è nato come un movimento contro il sistema, dei partiti contro il sistema che vi era all'epoca in Italia. All'euro nazionale, ormai, il Movimento 5 Stelle fa parte di quello che è l'amministrazione. L'amministrazione sia nazionale, sia delle province, sia per quanto riguarda i comuni. Per cui è entrata a far forza di governo. E qui ha perso quella vitalità che vi era prima dell'entrata nel governo del Movimento stesso. Oggi, sostanzialmente, noi abbiamo due grandi vantaggi. Quello che abbiamo dimostrato a livello nazionale di saper governare, e ci sono esempi il nostro ministro Di Maio ed altre personalità che hanno amministrato la nostra nazione, nella grande onestà intellettuale, nella grande capacità di portare avanti dei programmi. Abbiamo un grande vantaggio, quello di avere come leader ormai anche il ex presidente del Consiglio Conte, che si è ben distinto nella sua azione di governo. Per cui noi, seguendo quelle indicazioni, dobbiamo seguire anche quelle che sono indicazioni nazionali. E quindi verificare qual è la possibilità concreta di poter amministrare. Naturalmente, fare una lista solo con il Movimento 5 Stelle, collocata in maniera diversa e in opposizione a quello che sono gli altri partiti, oggi a Comunità Agropoli, potrebbe non essere valida a poter vincere la competizione elettorale. Però io mi auguro che si possa costituire una lista del Movimento 5 Stelle anche da collocare eventualmente in una coalizione diversa, una coalizione in cui vi siano delle indicazioni nazionali. Io stesso sono sempre in contatto con quelli che sono i vertici della zona, i riferimenti politici del Movimento 5 Stelle a livello locale, e quale praticamente il senatore Castiello, quale la nostra opposizione alla regione come cammarano. E quindi io mi auguro che si possa costituire una coalizione del Movimento 5 Stelle stessa da coppia. Qualcuno aveva immaginato che tu seguissi Consolato Natalino Caccamo, il consigliere che ti ha preceduto, nonché ex componente del Movimento 5 Stelle, e quindi insieme per portare avanti la candidatura di Costabile Spinelli. Questa ipotesi è valida oppure no? Allora, io sono molto amico e ringrazio sempre Consolato Caccamo per quello che ha dato a questa città e per quello che ha dato a questo movimento e per essere riuscito a portare delle sue persone all'interno del Consiglio Comunale, il Movimento 5 Stelle. Io l'ho detto con molta chiarezza, per quanto riguarda la candidatura del sindaco, ex sindaco di Santa Medica Stellabate, Costabile Spinelli, che è una persona per bene che io stimo e che conosco, ma io credo che Agropria abbia bisogno di altro. Non credo che Agropria abbia bisogno di praticamente di attingere a fondi diversi da quella che è la nostra città, ma soprattutto io credo che Costabile Spinelli possa essere anche eventualmente un ottimo candidato al sindaco, ma laddove vi sia una coalizione forte alle sue spalle. Altrimenti noi facciamo, come dicevo prima, una divisione di tutte le forze, tutti i candidati al sindaco e non si riesce a raggiungere l'obiettivo che è quello di poter amministrare con persone per bene questa città. Pensi che l'ipotesi ballottaggio sia credibile per le prossime amministrative oppure secondo te, insomma, il candidato di Franco Alfieri vince al primo turno? Allora, la problematica è una sola. Cioè la gente, l'ettorato... Nonostante, scusa Mario, volevo aggiungere, nonostante le frammentazioni, eh. E appunto, appunto, i cittadini, come giustamente, sono portati anche a schierarsi con delle forze che possano garantire una vittoria o quantomeno una stabilità politica della città. Se vi è una frammentazione così ampia nel momento dell'opposizione, naturalmente e chiaramente, caro Gianni, la gente si schiererà con quella coalizione che sicuramente può dare a loro la possibilità concreta di vincere. Quella è la cosa che dobbiamo fare noi? È quella di determinare, di determinare una sola coalizione in opposizione eventualmente all'amministrazione uscente. Se sono più coalizioni contrastanti con quella che è l'amministrazione uscente, la gente non ci crederà in nessuna coalizione e naturalmente si comporterà e voterà e appoggerà tutti i candidati della coalizione che più che vincere sarà quella della nuova amministrazione. Allora io sto dicendo sempre una cosa, lo dico nuovamente, lo ripeto, tutti noi dobbiamo fare un passo indietro con l'umiltà di noi stessi, anche chi ha fatto politica a più anni, come posso essere io o altri candidati, e dire vogliamo realmente cambiare cambiare un sistema politico. Siamo tutti sulla carta, firmiamo da domani, tutti, candidati a consiglieri. Non candidati a consiglieri, tutti candidati a consiglieri. Tutti coloro che praticamente vogliono fare il sintesi. E voglio fare i nomi di tutti quanti, perché tutte persone per bene, io che stimo, Giovanni Basil, Elvira Ser, Raffaele Pesce, lo stesso praticamente che mi ha detto tu Spinelli, Ciancio, tutti noi filmiamo un documento da domani, in cui diciamo, siamo tutti candidati a consiglieri. Vogliamo tutti cambiare. Poi uscirà il sindaco, che può essere anche una persona diversa, totalmente da noi stessi. Allora la gente ti crede, ma se noi ancora andiamo girando, e andiamo voltando per fare una coalizione, per fare tutti i candidati, magari con una lista a testa, non serve a niente. Allora la gente che cosa farà? Si rivolgerà a chi gli dà più sicurezza nell'amministratore della città. E quindi si vinceranno nuovamente i soliti, quelli che hanno amministrato nel tempo. Naturalmente, voglio ribadire un altro concetto, che è bene che lo sappiamo. Qual è questo concetto che voglio ribadire io, Gianni? è che nell'amministrazione comunale di oggi non bisogna buttare tutto a mare. Cioè nell'amministrazione di oggi ci sono tante personalità, tante persone, tanti consiglieri, tanti assessori, che veramente ci credono nello sviluppo della città. Allora se noi riusciamo a fare un mix importante tra chi esce e chi può entrare, e vogliamo il bene della città, riusciamo a vincere. Certo, è chiaro. Senti, tu attualmente sei il presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, perché Mario, chiedo scusa, perché Massimo Laporta si è dimesso, quindi tu essendo il vice entri automaticamente nel prossimo Consiglio Comunale come presidente, giusto? Sì, io dovrei il presidente del prossimo Consiglio Comunale. Ecco. E in virtù di questo, allora, un'analisi sulle dimissioni di Massimo Laporta e l'altra poi sul, diciamo così, sull'attesa di vedere che cosa fa l'assessore Roberto Mutalipassi perché ancora non si è espresso e quindi qualcuno magari si aspetta che segua il suo compagno, insomma, quindi Massimo Laporta della lista Agropoli Oltre. Quindi, prima analisi, cosa ne pensi di queste dimissioni? Guarda, io non me l'aspettavo, devo essere onesto e sincero, non mi aspettavo queste dimissioni di Massimo Laporta. Tra l'altro voglio dire una cosa molto semplice, io in politica, ma io per esempio proprio nella vita, bisogna anche dare una giustificazione totale di quello che si fa. io quello che volevo da Massimo con cui parlo, con cui dialogo, con cui ho, con cui magari lo vedo, c'è una stima che c'è, però quello che Massimo doveva fare in Consiglio Comunale, secondo me la vedo io, poi ognuno fa la sua scelta, però è un fatto politico di una mia visione, è che oltre a dire a dimettersi e quindi a fine del Consiglio a dichiarare la sua dimissione da Presidente del Consiglio Comunale, doveva fare anche una dichiarazione della motivazione del perché molti dimette. Cioè lo dico, noi dobbiamo avere, noi siamo stati sempre all'opposizione, no? Per chi sta all'opposizione, ma chi sta in maggioranza e si dimette, io credo che vada giustificata la dimissione, vada giustificata con atti concreti dicendo io non voglio più partecipare a questa maggioranza per questi motivi e andava praticamente giustificato. Se poi io non lo so nemmeno ancora, se poi le sue dimissioni riguardano non soltanto la sua persona, cioè quella di essere dimissionario come Presidente del Consiglio e consigliere, ma tutta la sua intera coalizione, questa ancora non è chiara, perché laddove fosse chiaro, domani ci doveva essere una dichiarazione da parte dei consiglieri che si rifanno a massimo la porta che sono state lette nella sua lista e degli assessori con una conseguenza di dimissione degli assessori e una dichiarazione da parte loro di un passato dell'opposizione. Il discorso che Massimo la porta e i suoi consiglieri siano passati dall'opposizione ancora non c'è stata, non c'è una dichiarazione chiara, formale in cui si dice io mi sono diventato il Consiglio perché da domani parteciperò ai prossimi consigli comunali come consigliere dell'opposizione per queste motivazioni. Questo non è stato detto ancora e tutto ciò determina un'ambiguità per quanto riguarda anche l'assessore da loro nominate che sarebbe Roberto Motalipassi persona eccezionale per bene che io stimo il quale sarà anche un discorso temporaneo perché comunque so che non è stato bene in questo periodo per la famosa pandemia. Però è chiaro che oggi una dichiarazione chiara pacifica è certa che Massimo Laporta e la sua intera squadra sia all'opposizione di questa amministrazione e le ragioni per le quali c'è non vi è stata. L'ha comunicato però attraverso la stampa mi sembra che a noi nel programma lo abbia detto che andrà all'opposizione. Io non l'avrò visto però praticamente l'altro l'ha detto io ne prendo atto in questo momento ma prima non lo sapevo. Certo chiaro. Bene Mario per terminare vorrei che tu lanciassi un messaggio ecco a tutti i concorrenti di questa magnifica secondo me tornata elettorale esaltante direi perché davvero molto incerta affinché insomma si potesse raggiungere un accordo in modo da equilibrare un poco di più diciamo così no la battaglia altrimenti noi sappiamo benissimo che Adamo Coppola ha già con sé tre quattro liste in appoggio e quindi insomma fino adesso è quello che ha maggiore forza direi Gianni allora noi dobbiamo partire da un concetto da tutto ciò parte tutta la mia la mia riflessione che cosa vogliamo noi come rappresentanti di questa città rappresentanti noi stessi o il bene della città stessa se partiamo dal secondo presupposto che è il bene della città stessa io voglio soltanto dire questo dire che ci dobbiamo porre nelle condizioni di voler sviluppare questa città noi dobbiamo sapere una cosa che ci sono dei sacchi di povertà di tanta gente che oggi ancora va alla Caritas a prendere i cessini della spesa noi dobbiamo cominciare ad essere vicini alla città ai cittadini alle persone e noi abbiamo questa grande possibilità e dobbiamo essere più umani e sociali a noi la pandemia che c'è stata quello che sta attraversando la nostra umanità ci deve rendere ancora più buoni più vicini alle persone non renderci ancora più eroganti e egoisti nel cercare soltanto di avere dei vantaggi a noi stessi allora noi dobbiamo essere dobbiamo sviluppare dobbiamo avere il futuro davanti il futuro e se abbiamo il futuro e stiamo vicino alla gente stiamo vicino a chi praticamente ha bisogno vedi che Agropodi non ha bisogno di niente perché Agropodi così com'è e così come ce l'ha data la madre natura e Dio come dico che io sono un credente già può portare tantissimo di sviluppo di per sé alla città stessa quindi noi tutti con umiltà facciamo un passo indietro il covid la pandemia ci ha dato questo insegnamento che non siamo niente perché un piccolo qualcosa che non vediamo ci ha ridotto in questo stato quindi che cosa siamo non siamo niente se noi tutti noi con umiltà ci mettiamo a disposizione della città e della gente vedi che l'Europa si svilupperà automaticamente e questo succede anche nella politica grazie molto bene Mario noi ti ringraziamo noi di Cilento Channel e sicuramente ci sentiremo per il proseguo perché siamo appena all'inizio insomma mancano ancora cinque mesi quindi c'è ancora spazio per parlare di politica ma soprattutto di politica concreta grazie Gianni grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te